Tutti i mazzi di Tarocchi, a partire tra la fine del XVIII e i primi del XIX secolo, riportano simbologia egiziana. Perché questo accade? Qualcuno ritiene che ciò dipenda dal fatto che gli arcani maggiori in realtà hanno proprio un'origine egiziana, dato che derivano dal libro di Thoth, più precisamente dalle tavole smeraldine. Ma tale ipotesi purtroppo non è stata mai dimostrata e non presenta nessun fondamento storico, non abbiamo assolutamente nessuna prova che ciò sia vero. In realtà, la presenza ridondante della simbologia egizia nelle lame dei Tarocchi dipende principalmente da due motivi. Primo, la ritualistica magica presente nella Golden Dawn all'epoca presentava fortissime connessioni con la cerimonialità egiziana, ovvero con la ritualità legata alla tradizione dell'Antico Egitto, alla magia egiziana. Nonostante la dottrina di quest'ordine fosse allo stesso tempo ricca di simboli e tradizioni della cultura alchemica o cabalistica, ma l'Egitto aveva una notevole importanza all'epoca in questi ambienti, poiché veniva considerato fonte di conoscenza, di consapevolezza e di informazioni preziose per gli occultisti. La seconda ragione di questa presenza simbolica così forte all'interno delle immagini delle carte di Tarocchi è il fatto che fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo iniziò una vera e propria moda, una sorta di mania verso l'Egitto, verso la sua cultura e verso le sue tradizioni. Napoleone entrava in Egitto allo scopo di conquistarlo e questo diede inizio a uno scambio culturale molto intenso. Ricordiamo che proprio in quel periodo Antoine Court de Gébelin associò le immagini degli arcani maggiori a quelle del libro di Thoth e i loro supposti messaggi occulti agli insegnamenti spirituali ed esoterici del libro di Thoth. Ma a questo punto facciamo attenzione a un elemento particolarmente significativo e cioè Arthur Waite non riteneva affatto che i Tarocchi avessero origini egiziane a differenza del suo contemporaneo Alistair Crowley il quale invece era fermamente convinto di questa origine e proprio per questa ragione nel momento in cui ordinò i disegni delle sue lame di Tarocchi che vennero appunto chiamati i Tarocchi di Thoth presentò una simbologia fortemente egizia all'interno di queste lame cosa che invece non fece Arthur Waite il quale quando commissionò a Pamela Coleman i suoi disegni diede delle indicazioni specifiche per cui la simbologia egiziana veniva semplicemente accennata in queste carte e non per un legame fra i Tarocchi e l'Egitto ma semplicemente per un legame fra il mondo occulto in generale e le conoscenze e la saggezza che l'antico Egitto ci tramanda ecco come mai in realtà fra i diversissimi mazzi di Tarocchi che nacquero all'epoca quello di Arthur Waite e Pamela Coleman riporta solamente degli accenni di simbologia egizia che adesso andremo a vedere carta per carta la prima carta che voglio mostrarvi è la ruota della fortuna quella nella quale i simboli egizi sono sicuramente più preeminenti e più presenti rispetto alle altre lame qui vediamo in particolare tre personaggi della cultura greco-egizia e cioè elementi che nacquero da una fusione di queste due culture il primo è Tiphonset, il serpente, il dio malvagio Tiphon o Typhon era un mostruoso serpente gigante che secondo la mitologia greca combatté contro Zeus per la supremazia del mondo e da lui fu sconfitto diverse fonti sostengono che fu poi rinchiuso nel Tartaro secondo altri autori fu invece imprigionato sotto il vulcano Etna e infine per altri autori nell'isola di Ischia il suo personaggio venne poi associato al dio egizio Seth dio della distruzione, del disordine e della violenza dunque ecco che Tiphonset ha origine dalla fusione di due rappresentazioni mitologiche del male è un simbolo di forze oscure associato in alcuni casi alla figura del diavolo stesso la sua posizione sotto la ruota e il suo movimento verso il basso indica che sotto l'influenza di egoismo, rabbia ed emozioni negative la nostra coscienza si muove verso basse frequenze e attraversa periodi oscuri il secondo è Herma Nubis una fusione fra il dio Hermes e la divinità Anubis Hermes, dio dei commerci, dei viaggi o messaggero degli dèi per gli antichi greci e Anubis, dio della morte e della conoscenza profonda dell'inconscio che affiora in superficie e il terzo è la sfinge simbolo come abbiamo già visto in altri video di potere e conoscenza questa simbologia che in una carta mostra la sfinge T. Fonset ed Herma Nubis sembra rappresentare la lotta fra due forze opposte fra la vita e la morte fra i bassi istinti animali e la saggezza fra il bene e il male forze che guidano i cicli della nostra vita passiamo adesso alla carta del carro che presenta ben due sfingi al posto dei cavalli se guardiamo attentamente l'immagine queste due sfingi non hanno redini come se il conducente le potesse guidare con la sola forza della mente ma ecco qui la stella nella quale troviamo Libis un uccello molto caro agli antichi egizi considerato vicino agli dèi e simbolo di profonda saggezza cosa notate adesso nella lama dell'imperatore? sicuramente molti di voi avranno già notato il simbolo dell'ank la chiave della vita un attributo di potere spesso rappresentato nelle mani dei faraoni o delle divinità ma dopo aver dato un'occhiata agli arcani maggiori passiamo adesso a uno degli arcani minori e cioè il cavallo o cavaliere di bastoni avrete sicuramente già notato le tre piramidi nel paesaggio i monumenti più famosi dell'Egitto tutt'oggi conosciuti che in questo caso rappresentano il passare inesorabile del tempo ed ecco che tre piramidi sono passato, presente e futuro ma allo stesso tempo ci parlano di immortalità e in effetti sono monumenti che hanno resistito incredibilmente al passare del tempo rimanendo quasi inalterati così come, secondo la tradizione storica ufficiale sono tombe, tombe per i faraoni ovviamente non è questa la sede per discutere se ciò sia vero oppure no prendiamo semplicemente per buono ciò che all'epoca conoscevano di queste strutture quindi in quanto tombe sono appunto simbolo di vita eterna di vita ultraterrena ma associate a questa carta ovvero al cavaliere di bastoni che è una lama che ci parla di azione, vigore, passione che significato possono avere oltre quelli già menzionati? sicuramente ricordandoci appunto il passare del tempo ci ricordano che non saremo sempre giovani non avremo sempre l'energia che abbiamo adesso ed ecco che diventano quindi un ammonimento ad agire quando è il momento per farlo quando ne abbiamo la forza quando arriva l'occasione giusta poiché noi non saremo sempre gli stessi dunque dobbiamo cogliere il momento e l'occasione spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi invito se avete domande particolari o se avete delle richieste specifiche su argomenti che volete che io tratti potete scrivere giù nei commenti la vostra richiesta inoltre vi invito a mettere un like iscrivervi al canale cliccare sulla campanellina in modo tale da rimanere aggiornati ogni volta che uscirà un video nuovo e se avete intenzione di addentrarvi in questo magico mondo e siete incuriositi e volete imparare a leggere i tarocchi vi invito anche ad andarvi ad iscrivere al videocorso gratuito che trovate all'interno della mia accademia e non dovete far altro che cliccare sul link che trovate nel box in descrizione e iscrivervi e con questo vi mando un saluto un abbraccio alla prossima ciao